Io credo che ha contribuito come il resto di tutte quelle persone che lavorano dentro la Roma a fare questa serie di risultati importanti e come se viene un calciatore e comincia a parlare io voglio andare via, cominciamo a disperdere quelle che sono le nostre forze perché poi dice, ma io fino a che rimando qui io farò quello che devo fare però basta di vogliarli andare via via, non è un modo di ragionare corretto e parte lo sa e poi quello che si farà il prossimo anno tutti insieme tutti insieme perché parte da lì, lo dobbiamo guadagnare ora la lì prossima, cioè come arriviamo, che posizione siamo, che abbiamo fatto che messaggio abbiamo mandato ai nostri tifosi e poi si incomincia a costruire o a rattoppare e poi i discorsi che non si possono fare né noi che siamo dentro lo spogliatoio né noi che siamo dentro lo spogliatoio né noi che sono vicini allo spogliatoio che hanno la stessa importanza che lavorano di più a più o meno un giorno per far trovare le cose al posto a questi ragazzi che poi ne hanno una cosa più grande a casa grazie grazie grazie